Siamo con Andrea Beccaceci, titolare dell'omonimo ristorante a Giulianova, presente al Premio Scanno qui oggi per presentare in maniera non ufficiale la nascita di un'associazione, un'associazione che raccoglie chef e pasticceri. Chiediamo al presidente di questa associazione come nasce quest'idea. L'idea nasce da un'associazione già esistente, aggiungendo alla nostra associazione altri colleghi, aggiungendo anche due pasticceri. Io vorrei brevemente citarli, se ho un modo, tutti siamo in tredici. Sono due pasticceri che sono Angelo Di Masso di Pandell'Orso, che ci sta ospitando in questo momento fra l'altro, Fabrizio Camplone di Caprissa Pescara, altro maestro pasticcere, e poi ci sono i ristoranti, l'Angolo d'Abruzzo a Carsoli, Villa Maiella a Guardia Grele, e l'Angolino da Filippo a San Vito Chietino, la Conchiglia d'Oro a Pineto, Locanda Mantone a Pescara, ce ne sono due a Civitella Casanova, che sono la Bandiera e il ritrovo d'Abruzzo, ce ne sono due ad Alba Adriatica, che sono l'Arca e il ristorante Mediterraneo, ci sono io a Giulianova, e spero di non aver dimenticato nessuna. No, ce n'è uno all'Aquila, importantissimo, che è l'Odia, che è a Camarda una frazione dell'Aquila. Quali sono i requisiti che bisogna possedere per entrare a far parte di questa associazione? Innanzitutto l'accoglienza, cioè l'ospite deve essere il protagonista, è il protagonista della nostra attività, e questo deve essere un punto fermo per chi vuole partecipare con noi a questa esperienza. L'altra, chiaramente, è il legame con la nostra terra e con i prodotti che la nostra terra offre, siano essi quelli del mare Adriatico, siano le carni delle nostre montagne, dei nostri allevamenti, siano le erbe, le verdure, gli ortaggi, i frutti, insomma, della nostra terra. Chiaramente non è un vincolo, come dire, totale, ma la buona parte del prodotto lavorato da queste aziende deve essere un prodotto abruzzese. E in ultimo il concetto di identità, nel senso che le aziende che fanno parte di Qualità Abruzzo e quelle che in futuro verranno devono avere presente un concetto di identità professionale, nel senso che la mano del pasticcere, la mano del ristoratore, dello chef, non deve essere una mano globalizzata, deve essere una mano identificabile, deve avere un suo stile, deve avere una sua forza, specie quando si ha a che fare con aziende tipo le nostre che vengono da storie familiari tutte più o meno lunghe. Quali i vantaggi di un ristoratore o di un pasticcere che aderisce alla vostra associazione? Noi vogliamo, come dire, aprire i rubinetti di questo flusso, far sì che un cliente possa liberamente muoversi per tutto l'Abruzzo, passare da un ristorante all'altro, sapendo di avere uno stile di accoglienza, uno stile di prodotto. Il secondo è quello di conoscere colleghi, condividere esperienze professionali, confrontarsi. Bene, ringraziamo Andrea Beccaceci, augurando crescita a questa, diciamo, neonata associazione. Neonata associazione, benissimo, sono io a ringraziare voi per l'opportunità che mi avete dato e che ci date a noi di qualità Abruzzo. Grazie ancora.